Martedì 9 aprile San Massimo Vescovo è centesimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 266 al termine il sole sorge le 6.35 tramonta le 19.50 la luna si leva le 6.53 tramonta le 21 si stipula la pace di Lodi tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano le trattative per la conclusione della guerra furono accelerate dalla notizia della caduta di Costantinopoli in mano ai turchi abile negoziatore fra i due contendenti fu il teologo Fra Simone da Camerino che per la sua mediazione ottene indorno dal senato Veneto l'isola di San Cristoforo dall'ora chiamata Isola della Pace più tardi, interrato il canale che la divideva da San Michele l'isoletta di San Cristoforo servì per ampliare il cimitero di Venezia le previsioni per domani tempo instabile a tratti perturbato specie al mattino con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso nuvolosità imprezzare attenuazione dal pomeriggio a partire dai settori di nord-est precipitazioni al mattino probabilità da alta sulle zone centro-occidentali della regione di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio a medio-bassa sulle zone orientali per fenomeni sparsi e di modesta entità nel pomeriggio probabilità in diminuzione per residui fenomeni sparsi in rapido esaurimento temperature minime in contenuto aumento in pianura in calo in montagna specie in quota e raggiunte a fine giornata massime in generale calo anche sensibili rispetto ai giorni precedenti